buongiorno a tutti amici telespettatori come diceva Mike buongiorno quanto cazzo siamo vecchi allegria 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 la 1 la 2 o la 3 ok episodio 13 del podcast 3 and drink io sono in compagnia della mia birra non so te ma comunque in questo periodo in questo periodo conviene darsi darsi una regolata perché anche oggi abbiamo la nostra bella dose di sfighe perché ho la piccola con la cacarella volgarmente detta quindi anche questa settimana non fila tutto liscio però sia sempre qua per te franz è un po il giro del mondo in 80 malattie una roba è viva una situazione che stai facendo più o meno direttamente tutte quindi ottimo io sono un po di mal di gola però va bene dai ragazzi si resiste insomma com'è il programma di oggi franz tre temi un'ora era quello era quello mi par di sì però noi vogliamo andare un passo oltre noi vogliamo andare un passo oltre vogliamo fare i precursori del delle nuove mode e il titolo di questa puntata numero 13 è tutto è connesso perché partiremo dal primo tema e poi cercheremo di connettere tutti i temi successivi che probabilmente saranno anche più di tre insomma in linea generale un po quello che abbiamo tentato di fare con faz nell'episodio bonus e proviamo a riproporlo qui sempre andando avanti a parlare ma bando alle ciance ragazzi perché è ora di cominciare e quindi come al solito maestro riccardo marchi e rieccoci qui al termine della sigla del maestro riccardo marchi anche il torre si è munito di birretta perché sennò tre and drink dove dove vogliamo andare episodio numero 13 il titolo è tutto è connesso è venuto in mente al torre tipo due secondi prima di partire con la registrazione ma il bello è anche quello lo trovate sul canale youtube tre and drink su tutte le principali piattaforme podcast da spotify a google podcast apple podcast apple podcast e e apple podcast mi pare anche ok e siccome tutto è connesso noi volevamo partire da un tema per poi connetterci tema dopo tema per arrivare chissà dove perché poi in realtà il bello di questo podcast è che iniziamo a parlare ma non sappiamo esattamente dove andremo a parare per cui il tema da cui partire visto che ci riconduce anche un pochettino a quello che è stata l'off season a quelli che sono stati forse anche gli europei di basket perché uno dei protagonisti anzi il principale protagonista è stato protagonista gli europei di basket parliamo di rudy gobert parliamo dei minnesota timberwolves parliamo di quello che è successo questa in questa off season con minnesota che ha sacrificato tutto il loro futuro per prendersi un giocatore come rudy gobert che sai per certo che ti dà questo ma probabilmente bisogna pensarci più di qualche di qualche volta insomma in questo momento preciso minnesota un record negativo non ha più scelte perché sono tutte degli uta jazz e poi ci collegheremo agli uta jazz a giocatori scontenti primo tra tutti quello che dovrebbe essere il tuo presente e futuro che anthony edwards ha dei giocatori sconnessi dalla realtà abbiamo visto di angelo russell non entrare nemmeno in campo palle perse incredibili e vi butto lì una statistica minnesota con gobert in campo è una delle migliori difese e uno dei peggiori attacchi senza gobert in campo è uno dei migliori attacchi e una delle peggiori difese sapevi esattamente che sarebbe stato così quando hai preso gobert ma è stata la scelta giusta evidentemente no non so cosa ne pensi tu e che ti devo dire io franz tra le tante cazzate che dico in prediction c'è stata anche quella rispetto rispetto alla quale insomma secondo me questa trader una trade supportabile almeno in regolar season poi magari i problemi arrivavano ai playoff invece i problemi sono arrivati decisamente prima era talmente sulla carta come dire prevedibile quello che hai detto te che uno magari si immagina e poi non vada in quella maniera lì e lo stesso discorso si poteva fare per i lakers tipo io dicevo impossibile no che vada peggio dello scorso anno invece andando peggio dello scorso anno il problema di minnesota lo hai focalizzato te con questa con questa intro e l'esempio di angelo russell che non è soltanto l'uomo che si scorda di entrare in campo ad un certo punto con i compagni che comunque difendono in quattro se non ricordo male se accorgono comunque molto dopo è stato un momento molto bello di basket quello perché non riuscivano a capire perché ci fosse sempre un uomo libero secondo me io ho visto un po i volti diciamo alla fine sono accorti ben caspita se siamo in quattro c'è assurdo magari ampezzato ma che bella circolazione di palla sta facendo mazza che porti libero accettano cioè siamo all'assurdo il problema che di angelo russell non solo paghi in difesa perché difensivamente imbarazzante ma lo stanno pagando tanto anche in attacco laddove io l'avevo detto mi sa anche qua la speranza era che rifiorisse no nell'occasione di poter giocare il pick and roll con un lungo vero che rolla realmente come in teoria doveva far gobert e come non faceva towns negli ultimi anni visto che towns era sempre tendente a poppare per così dire o comunque preferibilmente a non andare forte in area e invece di angelo russell credo che sia il problema principale di questi miniatura timbro il principale di tantissimi evidentemente si sta già parlando di una soluzione diversa per coach finch quindi di di panchinare russell di trovare altri assetti per lo meno a livello di di starting five per partire a livello di chiusura delle gare nella ultima sfida persa dai timberwolves contro i grizzlies russell è stato panchinato credo sì sì ma è stato panchinato per non aver difeso un backdoor proprio non ha neanche guardato l'uomo finch si è incazzato bellissimo andate a rivedervi la parte video si è incazzato in panchina l'ha tenuto l'ha tirato fuori non l'ha più fatto giocare quindi oltre a tensioni diciamo tra giocatori evidentemente c'è anche una discreta tensione con il coaching staff da parte quantomeno di di russell in questo momento e tendo a dar ragione al coaching staff in questo caso nel senso che voglio dire è stato talmente cioè è tutto un meme in questo momento per minnesota veramente non sta andando bene nulla e se la curiosità iniziale che comunque c'era nel vedere le twin towers questi due lunghi uno classico cioè uno totalmente difensivo neanche a dire classico perché non ha un mezzo movimento offensivo è uno modernissimo come si sarebbero potuti integrare in realtà il grosso problema non è come si integrano towns e gobert il problema è tutto il resto che se l'area è chiusa è il tuo miglior giocatore e il tuo prospetto futuro su cui dovresti investire tutto il tuo presente futuro non ha lo spazio e secondo me in questo momento stanno anche venendo a galla dei grossi 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 limiti proprio dal punto di vista mentale di leadership proprio di atteggiamento che non ti puoi permettere non ti puoi permettere e anthony edwards secondo me è sceso parecchio di con questo suo atteggiamento nelle gerarchie ipotetiche di una star del futuro ecco era una roba che comunque i beni informati o comunque chi aveva avuto modo di intervistarlo di conoscerlo anche prima dell'ingresso in nba dicevano è nel senso non sarà in esplorata esatto disabitata non per citare il solito pratt che salutiamo però nel senso per adesso può dir di aver avuto ragione lui io effettivamente a prescindere dal fatto che già mi destava dubbi la dichiarazione di edwards quando parlava di non di giocare meglio quando aveva l'area libera e quindi di dar questo assist al fatto che congo berles la cosa era peggiori per lui e secondo me era un discorso abbastanza fine a se stesso perché è vero che magari goberti occupa degli spazi però insomma devi essere anche bravo e voglioso te di andare al ferro mentre invece mi sembra che molto spesso sia contenti di soluzioni come dire o di tiri oppure di soluzioni isolamento del tipo quando mi arriva la palla me la porto a casa perché devo portare sulle statistiche però non è completamente difendibile a maggior ragione dopo la famosa azione in cui è passato 24 secondi con le mani sui fianchi perché in buona sostanza ha fatto quello osservando i compagni e estromettendosi dalla manovra offensiva è una roba che non ti puoi permettere e che secondo me denota un solco grosso all'interno dello spogliatoio perché è inevitabile e potenzialmente lo ingrandisce anche perché non vedo come poi puoi tornare in campo dopo aver fatto una roba del genere e pensare che ci sia come dire una comunanza di intenti cosa che serve per uscire dalle beghe offensive di una squadra che poi appunto ha un assetto comunque complesso e però si ritorna lì non per continuare a citare il prat però lo stesso diceva anche di carla anthony towns nell'arco della sua carriera del fatto che sia soft del fatto che sia uno che è abituato a perdere che sia contenti di perdere che non abbia quel sacro fuoco che lo scorso anno a tratti sembrava avere un po recuperato anche a livello di cattiveria ma che evidentemente in questa stagione a me sta apparendo non so come lo vedete abbastanza abbastanza intangibile carla anthony towns poi guardi le statistiche va bene ne fa i suoi eventi di media non so prenderà 10 rimbalzi di media però c'è completamente completamente non è non è la star che che ti aspetti che possa trascinare la squadra edwards nel contempo non lo è govern non può esserlo in attacco di angelo russell l'abbiamo detto adesso c'è poco altro a dire allora un casino per minnesota è un grosso casino è un grossissimo noi dicevamo che comunque era una squadra che ai playoff con l'aggiunta di goberti arrivava di default in un certo senso comunque perché il regular season goberti garantivano quelle 40 45 vittorie problema però è che non so se sia un problema di di finch di di come li sta allenando o più verosimilmente un problema di disponibilità che affince per poterli mettere in campo a me sembra una squadra molto corta e molto mal mal assemblata purtroppo dicevo il contrario prima che iniziasse a regular season quindi mi cospargo la testa di cenere e chiedo scusa non ci capisco un cazzo no vabbè ma c'è ribadisco quello che ho detto prima c'è la curiosità nel vedere questa squadra c'era da parte di tutti perché tutti erano pronti a bastonarla nel caso le cose fossero andate male perché hanno sacrificato veramente tutto 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 per rudy gobert e non è faccio una colpa in realtà di rudy gobert perché rudy gobert è questo cioè rudy gobert è questo se c'è se c'è gente che ha deciso di dargli questo contratto se c'è gente che ha deciso di sacrificare cinque sei cinque prime scelte per arrivare a un giocatore così era perché è perché evidentemente rudy gobert in nba ha un impatto e ce lo sta avendo l'impatto perché statisticamente ridico quello che ho detto prima con gobert minnesotto è una delle migliori difese senza gobert è una delle peggiori difese il problema è che con gobert è uno dei peggiori attacchi e senza è uno dei migliori quindi non ci sono vie di mezzo quando ti porti dentro rudy gobert probabilmente o hai la fisionomia degli uta jazz di quel tempo cioè tanti tiratori con lei bogdanovic ingles volendo anche donovan mitchell che quest'anno a cleveland sta tirando quasi dieci triple a partita a livello di triple tentate quindi o hai quel tipo di squadra che allora a livello di spaziature è tutto a perimetrale e tirano da fuori oppure se hai towns che si tira tanto da fuori ma è comunque un lungo se hai edwards che tira tanto da fuori ma se andasse al ferro sarebbe anche meglio e hai tanti altri giocatori magari non esattamente tiratori affidabili e poi viene fuori un merdone che che dio solo sa poi magari le cose si aggiustano adesso tutto comincia a rigirare secondo i piani però è chiaro cioè quando tu hai preso gobert non hai preso una scommessa tu hai preso esattamente questo giocatore quindi ma lui fa file gobert cioè nel senso sono d'accordo con te il problema non è colpevolizzare lui e neanche definire troppo il prezzo che è stato pagato perché effettivamente è tanto il prezzo che è stato pagato l'abbiamo detto mille volte ma non che il giocatore non lo meriti per quelle che sono le sue specifiche per così dire il problema secondo me è mettere a capo delle richieste di squadra evidentemente carl anthony towns perché te prendi gobert per lusingar towns e per permettergli finalmente di far il centro perimetrale tra virgolette che ha sempre voluto fare per il quale si ritiene il centro tiratore più forte di sempre è però nel senso devi anche scegliere secondo me qual è il come dire il portavoce di spogliatoio il maschio alfa della del tuo gruppo dal quale dipendere a livello di dirigenza nelle scelte di mercato nel senso noi critichiamo lebron james perché fa le gm evidentemente non ne azzecca una è comunque una dinamica che storicamente e anche attualmente funziona in tutti gli spogliatoi purtroppo per i nets anche kevin durente lo stiamo vedendo è quello che in un modo o nell'altro fa il mercato decide chi deve stare e non deve stare anche a livello poi di allenatori perché prima ti porti in esce poi lo fai fuori e sai che a prescindere da quel cadetti in estate poi alla fine cede a durente e fa fuori in esce dopo una manciata di partite non tutti sono così lungimiranti a livello di consigli alla dirigenza quanto appaiono forti in campo il problema però che secondo me qui si è sbagliato completamente il focus cioè dar pieni poteri o comunque l'ultima parola eventuali evidentemente andato così a uno come towns ti può portare a far scelte simili il problema è che devi hai voluto portare la seconda torre per permettere a towns di giocare più fuori però il problema è che poi ti blocchi su qualsiasi tipo di possibilità nel poter creare un contorno realisticamente supportabile o sostenibile a questa questa struttura qua e il contorno è quello che evidentemente manca anthony duars ne esce sacrificatissimo e sarà un problema perché comunque anthony duars fin quando ha il rookie contract va tutto bene fin quando fin quando stiamo lì e stiamo sereni ma ci sarà anche un momento in cui anthony duars potrebbe anche eventualmente chiedere di essere ceduto oppure se non ha opzionato il rinnovo non lo so onestamente scegliere e valutare di andare da altre parti nel senso sono cose molto pericolose perché poi quando investi tutte queste scelte come abbiamo detto mille volte non hai una programmazione futura realistica e si tratta di minnesota non di los angeles è la faccenda dei lakers il fatto di aver ipotecato il loro futuro in nome di anthony davis e oggi comunque appare un problema però si torna sempre lì è un big market minnesota non è un big market e non si va a volentieri amminiamo di spirit market esatto 7 dovevi fare in modo di far contenti le tue superstare entrambe in questo caso edwards sembra poco contento aggregarne una terza gober che fosse al loro servizio evidentemente non è al loro servizio e trovare il modo di di capitalizzare qualcosa dall'unico asset che ti resta asset tra virgolette e di angelo russell dopo un avvio di stagione così credo di angelo russell non si lo prenderebbe nessuno in questo momento qua a un mercato probabilmente inferiore a russell westbrook e comunque vedi il suo in risalita quindi devo stare molto attenti a minnesota cioè l'importante che fince riesca a trovare il bandano della matassa e che risolva la situazione perché oggettivamente se vanno avanti in questo modo su un cazzi amare sono cazzi amari per loro non sono cazzi amari per gli uta jazz e passiamo al primo collegamento perché le scelte le scelte dei di minnesota ce l'hanno gli uta jazz esattamente come le scelte dei lakers ce l'hanno e pelicans e qui pelicans credo stiano godendo come ricci della situazione in casa giallo viola ma non vogliamo parlare di lakers vogliamo passare rapidamente agli uta jazz perché attualmente sono la squadra con il miglior record a ovest miglior record a ovest fontecchio come la previsioni non gioca però vabbè insomma avevamo detto avevamo detto che era che era una squadra comunque profonda e che però insomma su cui però mancava come se lo star la star proprio quel quel pizzico di superstar è una squadra piena zeppa di gregari in cui però c'è un'unità di intenti notevole e marcanen sta giocando una stagione clamorosa da probabilmente mip giocatore più migliorato ci sono tanti giocatori che hanno qualcosa da dimostrare in primis i veterani che volevano vogliono semplicemente far capire che lì contavano anche loro cioè che sono dei giocatori serie che loro con lei sta giocando forse una delle sue migliori stagioni clarkson sta giocando ad altissimo livello e olinic che è arrivato sta facendo il suo insomma tanti giocatori diciamo reietti o comunque buttati lì che pensavamo potessero fare potessero fare schifo in realtà hanno trovato un modo di giocare molto rapido moderno si passano tutti il pallone e non c'è una superstar e questo ti può andare bene fin tanto che le cose vanno bene c'è entusiasmo e tutto gira e io non so realmente che cosa aspettarmi da questa squadra da qui in avanti perché io mi è capitato di guardare un paio di partite e giocano veramente bene e con una mentalità che nessun'altra squadra al momento in nba a cioè un mix tra autoconvincimento e spensieratezza cioè come va va però facciamola andare una roba non ho niente da perdere non hanno niente da perdere in buona sostanza si e entriamo anche nel discorso allenatore che è willardi uno dei era il più giovane adesso non so chi sia il più giovane tra lui e mazzulla però hanno tutti e due 34 anni credo quindi sono più giovani pure di meta ed è una cosa curiosa il fatto che willardi ma anche jo mazzulla fossero entrambi assistant coach sudoka e quindi qua gli agganci scattano avrete già intuito dove vogliamo andare a parare però rimaniamo sugli uta jazz cioè questo willardi che era arrivato anche un po in pompa magna nel senso come uno una sorta di predestinato nella panchina di uta jazz si è preso sta patata bollente e la trasformata nella miglior squadra a ovest per ora per ora tra l'altro se ti ricordi visto che si parlava di della della lotta per diventare head coach dei jets durante i playoff dopo l'eliminazione di juda e la dipartita di snyder ardi e mazzulla sono arrivati in finale entrambi nelle valutazioni c'è a un certo punto erano tra gli ultimi tre nomi papabili c'erano sia mazzulla che ardi e i jets avevano scelto per ardi ardi e tra l'altro anche un figlio di popovic tanto per cambiare non a caso è un figlietto di uto figlioccio di uto è un nipote di popovic esatto non c'è mai capato un cazzo con gli alberi genealogici però ecco più o meno ci si può costruire tutta una storia no io io dico una cosa sola prima di dirne un'altra allora anzi prima dico l'altra i lakers no non parliamo delle però a me fa ridere sta roba i lakers per adesso si diceva beh fanno schifo però almeno in difesa avevano trovato i jets due volte nella ultima settimana baston 130 punti incassati la prima volta 139 nella seconda ora porca puttana la difesa si salvava e basta lakers volevo dire io sento un sacco di persone dire sì ma comunque i jets arriveranno verso metà della stagione venderanno tutti per riprendere quello che era l'obiettivo primario che era a tancare tant'è che si parla sempre di connessione eventuali tra lakers e jets perché a metà stagione magari lakers vanno avanti così no però potrebbero aver bisogno di portare dentro qualcuno per puntare alla rincorsa playoff allora uno dice è normale che ci sia uno scambio tra testa coda tra jets e lakers in potenza perché dovrebbero scambiarsi i roster tutti il contrario secondo me lakers continuerebbero a perdere questo discorso ma io mi chiedo perché c'è cosa cazzo gliene frega a questo punto ai jets di dire di risveglianza a metà stagione e dire ragazzi da oggi in poi iniziamo a perdere siamo arrivati qui magari e abbiamo il secondo miglior record della conferenza a perdere perché vogliamo che gliene frega alla fine della fiera anno mi ne so da che fa care in buona sostanza per già le scelte in modo dell'altro sono già tutelato hai comunque una squadra che dovrebbe essere la squadra del rebuilding è una squadra alla quale non chiedevi niente un allenatore che sta sperimentando e sta producendo quello che hai detto te c'è l'ottimo gioco che può produrre un gruppo che non ha una superstar all'interno e quindi dove non c'è una gerarchia determinata che nei casi di tanking molto spesso è una situazione ideale quella di avere una gerarchia delimitata e alla cima della scala gerarchica un giocatore di una visione in quel modo invece in cui è beh uno poteva pensare marcanen magari che è veramente più talentoso sulla carta è comunque una causa persa no non è una causa persa probabilmente sarà anche uno star e ma l'avevamo visto a euro basket è in grande spolvero però era veramente impressionante ma è impressionante come dicevi della ripresa del dei grandi veterani ad esempio clarkson che è noto per essere lo sparatutto è noto per essere giocatore a quei 20 minuti tira 20 volte poi va in panchina se ha realizzato bene se non sono cazzi clarkson sta giocando per la squadra ha completamente cambiato il suo stile la sua impostazione passa anche la palla e neanche male e questo è la dimostrazione a supporto di quanto buon lavoro dovrebbe aver fatto ardi perché non credo che clarkson si sia risvegliato dalla mattina alla sera tra una stagione e l'altra e abbia imparato a giocare a basket con i compagni evidentemente c'è un allenatore che è convincente e che gli ha messo davanti dei giochi e degli schemi che che lo soddisfano e che sono comunque propedeutici per farlo rendere al meglio e sono i jazz più simpatici di sempre attica anche al cambiare degli attori non ho mai sopportato i jazz però questi questi jazz chiamiamoli pure operai sono oggettivamente molto simpatici e il merito ripeto è tutto dell'allenatore in tutto questo non dimentichiamoci che c'è comunque una serie di giovani all'interno di questi jazz che per adesso non stiamo vedendo non sto parlando di fontecchio ma sto parlando di akbar e non è giovane ma cina ad esempio non lo stiamo vedendo più di tanto stiamo iniziando a pedicchiare un po tale norton tac e allora io ti posso laker se non per ritorna lì non ho grandi speranze verso di lui però insomma qualcosina magari il rookie kessler che avrebbe fatto comodo a minnesota ma dai che era lupi 10 però scusa dove delle cose brutte e comunque sta quantomeno dimostrando quello che aveva fatto vedere al college cioè che a livello di istinti difensivi c'era quindi nel senso nel voler far tutto male è andato tutto bene ma secondo me aiuta non voleva far tutto male semplice e non avrà nessuna ragione per mandare in vacca questa questa buona squadra che sta emergendo così tanto nel nome del tanking cosa gliene viene cosa gliene importa alla fine della fiera comunque è vero hai meno possibilità potenziali per poter ottenere la numero uno ammesso che puntino a when banyama eccetera però è anche vero che comunque con con le percentuali rispetto alla pallina eccetera non è che se sei sia il peggio record è la numero uno garantita quindi insomma è molto probabile che sia un upset anche in lotterie che si prenderà a when banyama no quindi tutto sommato è comunque a un pacco di scelte anche in prospettiva futura quindi secondo me se questa squadra trova la quadra e l'ha già trovata direi e va avanti in questa maniera per quale ragione di svegliarsi a mezza stagione e manda via tutti non ne vedo alcuna e saranno divertenti da vedere secondo me magari una squadra che uscirà al primo turno ma che comunque creerà una stagione più da applausi rispetto a quella dello scorso anno per i tifosi jazz perché lo scorso anno era una squadra che era partita a zoppa dall'inizio perché il rapporto tra gober e mitchell era deteriorato dai tempi del covip probabilmente dai tempi della bolla o del pre bolla e non si era mai recuperato e quel gruppo li era ormai un gruppo arrivato a fine corsa questo è un gruppo con mille prospettive e anche la prospettiva comunque di potersi aggregare giovani importanti con tutte le scelte che mi ne so da e altri gli hanno regalato perché comunque non solo dai timberwolves sono arrivate scelte per cui ecco bravi bravi jazz bravo danny ainge o bene che è l'uomo del rebuilding perché per voler fare un aggancio con i boston celtics potremmo andare su will hardy che ha la stessa età di mazzulla assistant coach udoka quindi ex boston ma potremmo andare anche tranquillamente su danny ainge che ha costruito di fatto questi boston celtics partendo da quella che fu la trade garnett pierce jason terry coi brooklyn nets e tutte le scelte che ne derivarono e da lì entrarono poi vari smart jalen brown jason tatum e adesso boston è lanciatissima adesso al secondo miglior record a est perché milwaukee bucks sono ancora lì in testa saldamente anche se devono fare a meno in questo periodo di tutti praticamente perché jannis drew holiday e middleton non ci sono boston celtics che sembrano aver ritrovato diciamo il piglio del dell'ultimo off season non tanto da un punto di vista difensivo dove ovviamente l'assenza di time lord si fa sentire inevitabilmente ma da un punto di vista offensivo sono la squadra con l'offensive rating più alto dell'intera nba figlio anche del numero stratosferico di tiri da tre che tentano a partita perché boston è la squadra che tira di più da tre ma che tira anche meglio da tre perché tira con oltre il 40 per cento e se hai quel volume si parla di 40 tentativi da tre a partita se hai quel volume e tiri col 40 per cento è molto facile che tu sia il miglior attacco almeno per offensive rating dell'intera lega boston può ripetersi può ripetersi cioè ha le carte in regola per ripetersi e o di più ha le carte in regola per poter essere la squadra ad est dei prossimi 5-6 anni dei prossimi 5-6 anni non lo so però per me sono i favoriti a est anche oltre milwaukee ti dico la verità e ti spiego perché c'è una serie di ragioni la prima è che è palese che l'esperienza della scorsa stagione ha portato una crescita a livello di consapevolezza e di sicurezza nei propri mezzi di tutti i giocatori al roster tedium è l'esempio esemplare esempio esemplare è brutto però è comunque esemplare l'esempio primario perché evidentemente in questo momento jason tedium è uno dei potenziali papabili in terzina mvp e credo lo metta anche la nba nel suo leader però mi sembra palese sta giocando sta mostrando quel salto di qualità che gli chiedevamo da tempo e che lo scorso anno forse avevamo visto da metà stagione in su la partenza di tedium è assolutamente impressionante oltretutto come dicevi giustamente si può perdonare qualche mancanza difensiva perché manca time lord e quando rientrerà time lord è chiaro che la difesa si trasforma ulteriormente speriamo che rientri sano certo ma con questo avvio qua secondo me puoi serenamente aspettare che stia al 100 per cento quantomeno al 90 per cento per farlo rientrare cioè non hai la fretta di farlo rientrare mezzo zoppo come fecero lo scorso anno in post season perché gioco forza e giocavi la stagione ti serviva detto questo gli ingressi a completamento abbiamo parlato di brogdon la sfiga di gallinari ma più che altro una serie di comprimari che sono venuti fuori da nulla cioè viene fuori voler viene fuori hauser come come si chiama ma soprattutto pricciarda mi ha impressionato io ho visto la partita contro denver dove non c'era brogdon entra pricciarda che sostanzialmente aveva visto il campo pochissimo e fa una partita semi perfetta ma non solo ma prende rimbalzi in attacco è un giocatore con senso della posizione incredibile è quello che fisicamente avrebbe la struttura più deficitaria di tutte no e invece e questo ti fa capire che sta andando tutto bene perché quando funziona bene in questa maniera qui anche per come dire il fondaccio della panchina perché in buona sostanza entra chiunque e comunque produttivo cornet 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 produttivo look cornet incredibile cioè quando funziona questo vuol dire che l'allenatore sta facendo un lavorone è già successo lo scorso anno a boston e si diceva infatti quanto doc avesse trasformato lo spogliatoio prima ancora che trasformare la difesa nei celtics è la miglior difesa della lega qui ragazzi mazzulla però ha preso un attacco che in buona sostanza è lo stesso dell'anno scorso è vero è cresciuto tatum ulteriormente è cresciuto brown a livello di consapevolezza sono cresciuti tutti porti dentro brogdon che comunque era esattamente quello che ti serviva però comunque questo è il miglior attacco della lega e ti dico di più la partita con i denver nuggets partita impressionante perché non è che denver abbia offensivamente sbagliato più di tanto boston gli ha lasciato anche tanto a livello di concessioni semplicemente i celtics non erano più riprendibili dopo l'inizio perché non smettevano più di segnare chiunque fosse in campo è già quella impressiona in back to back credo vai a giocare a detroit non c'è jaren brown non c'è al orford però ragazzi allo stesso livello un tatum che viene matematicamente raddoppiato tutte le volte che riceve la palla perché chiaramente il più pericoloso fa 43 punti 42 e lui e smart sono il motore di trazione di un attacco che funziona al mille per cento mi dirai erano i detroit pistons d'accordo però comunque è sempre difficile giocarsi una partita in back to back e comunque sempre difficile per un ottimo attacco doversi trovare in una gara senza appunto i due dei primi tre attaccanti che ha a disposizione perché appunto mancava orford e mancava brown quindi il lavoro di mazzulla è tangibile è solido e non poteva non esserlo perché comunque ha dovuto in un modo o nell'altro far rimbalzare tante problematicità anche all'interno dello spogliatoio perché poi adesso arriveremo ai nets cioè la percezione io leggevo alcuni articoli alcune interviste ai giocatori la percezione che c'è stata all'interno dello spogliatoio nel saper che udoka poteva andare ai nets è stata una percezione molto di spaesamento no di tristezza perché comunque c'è questa spada di damocle potenziale sulla testa di mazzulla lui e lia di interim cioè di fatto udoka è sospeso per un anno potrebbe rientrare per i giocatori dei celtics udoka è ancora il loro allenatore in questo momento ai box però se poi lo vedi da un'altra parte in questo caso se fosse andato ai nets con una diretta contender è che da un punto di vista di morale ti avrebbe un po buttato giù è quello che ha detto smart e che hanno detto altri anche già nel brown se non erro anzi grant williams e però mazzulla invece con grande solidità con grande umiltà direi ha comunque dimostrato di meritare la fiducia e lo spogliatoio è riuscito anche a farsi rimbalzare tutta questa merda che in un modo o nell'altro gli è passata attorno ma che non l'ha non lo ha colpito non lo ha scalfito no e per me joe mazzulla e coach of the year io ve lo dico già all'inizio e io continuo a dirvi scommettete i vostri soldi su mazzulla questo cognome che ci richiama insomma le nostre origini italiane che garanzia di qualità joe mazzulla joe mazzulla arrivato con la doppia z proprio mazzulla mazzulla vabbè vabbè no sono d'accordo ma ti porto alla luce altri due temi il primo è quanto cacchio è migliorato marcus smart dal punto di vista del playmaking è diventato un altro giocatore ma è all'interno di un sistema offensivo diverso rispetto a quello dell'anno scorso perché l'anno scorso era tutto un penetra scarica penetra scarica molto su isolamenti e molto sulla capacità del singolo di saltare il proprio creare la superiorità e poi scaricare quest'anno c'è molta più impressione che sia non dico run and gun però se hai il tiro prendilo e smart che è colui che principalmente porta palla in transizione o almeno le statistiche dicono questo scarica e gli altri tirano e segnano quindi capita che smart abbia già fatto tre quattro doppie doppie con gli assist e che oltre a essere il defensive player of the year perché lo è adesso è anche un buon playmaker il secondo tema dopo smart è siamo di fronte all'arrivo finalmente di una nuova generazione di head coach perché abbiamo will ardi abbiamo già mazzulla avevamo udok abbiamo jacques vaughn a brooklyn che è subentrato a steve nash che pure lui era giovane tendenzialmente jacques vaughn ha già molta più esperienza perché è stato assistant coach per diversi anni gli è anche cresciuto una barba indegna una roba orribile e vediamo invece magari dei marpioni tipo steve clifford a charlotte che non ho l'idea del perché l'abbiano ripreso al posto di borrego tra l'altro che non aveva nemmeno fatto male però va bene così e vediamo insomma magari dei coach giovani che stanno stanno in qualche modo lasciando il loro marchio su squadre che non erano così attese parlo di juta per willardi o parlo di boston squadre che erano attese ampiamente attese anzi favorite da punto di vista di di quote per la vittoria finale arriva un 34enne e ti fa questo tipo di lavoro qua cioè ti trasforma una squadra che era la miglior difesa e altamente disfunzionale in attacco a una squadra che è il miglior attacco e in difesa per il momento si arrangia senza il loro praticamente perno difensivo che è time lord siamo se dio vuole di fronte a una nuova generazione di allenatori che spero possano portare qualcosa di nuovo perché insomma qualcosa di nuovo ai jazz ripreso magari dal basket degli spurs di qualche anno fa dal basket cioè spunti un po dappertutto la voglia dei giocatori di mettersi comunque a disposizione perché senza quella ovviamente non vai da nessuna parte lo vediamo a minnesota diciamo c'è questo sentore che dal punto di vista del coach ci possa essere qualcosa di nuovo tra l'altro ti sei dimenticato ma non credo che sia dimenticato realmente per una questione di sintesi di taylor jenkins dei grizzlies che comunque resta un coach giovane ed willy green dei pelicans un altro comunque sta facendo un bel lavoro nel senso sì secondo me siamo davanti a una nuova generazione e secondo me una generazione figlia di quella che è diventata in epoca moderna l'importanza dei coaching staff nelle grandi squadre o nelle squadre in generale perché meno male si parla tutti di nel caso di mazzulla e di ardi in primis di allenatori che si sono formati in coaching staff importanti probabilmente l'importanza che oggi al coaching staff anzi probabilmente sicuramente è superiore rispetto a 20 30 anni fa ed è dovuto anche insomma quella che è l'attenzione scientifica no a livello di statistiche o anche di approccio rispetto al gioco questo fa sì che queste nuove generazioni che si sono formati all'ombra di grandi head coach siamo più preparate probabilmente ad una visione analitica del gioco e quindi poi una volta raggiunta la sufficiente esperienza o ottenuta la possibilità di potersi provare in panchina fanno bene il caso di ardi secondo me è emblematico per questo perché alla fine della fiera comunque è un esordiente a livello di coaching comunque come coaching staff ha avuto delle esperienze importanti dammi una squadra anche una squadra categorizzata come squadra di merda come dicevamo tutti e io però che sono uno scienziato del gioco tra trasformi una squadra che sa giocare bene perché poi il senso reale dell'allenatore dovrebbe essere quello di massimizzare le positività di un gruppo e minimizzarne i difetti se pensiamo ai jets per ritornare un attimo aiuta è esattamente come giovani in questo momento probabilmente perché ardi è una mente analitica che ha avuto modo di svilupparsi facendo esperienza laddove l'analitico conta cioè il tuo lavoro cioè essere parte di uno staff per un allenatore avendo quindi delle responsabilità è un modo diverso di osservare poi di crearsi una coscienza che poi quando hai la tua chance metti in campo e funzioni nel caso dei nets quello che è avvenuto con l'arrivo di con l'arrivo anzi conferma di jack bone come come caspita si pronunci perché non mi riesce è una squadra che ha ripreso anzi trasformata completamente dal punto di vista della della metà campo difensiva fa impressione io non so però quanto sia merito dell'allenatore o quanto sia merito della cordellina che veniva fatta nes a questo punto qua perché ragazzi c'è da un punto di vista difensivo è vero è uno può portare e apportare delle nuove idee ma non è che le rivoluzioni avvengono da una partita all'altra quindi secondo me era semplicemente una questione di voglia e non c'era più voglia di essere allenati da nesce a brooklyn per me da parte dei giocatori ovviamente però insomma dato di fatto per dato di fatto questa squadra qui adesso difende per cui sciapolo come direbbe pericolosa tra l'altro sempre facendo facendo riferimento al discorso allenatori vediamo dei vecchi marpioni in difficoltà tipo doc rivers a filadelfia tipo chi cacchio mi veniva vabbè fincia anche a una certa età mi inesota relativamente giovane come nome ma in realtà ha una certa età popovic vabbè fa storia a sé stante e quello non lo togli da lì comunque attenzione a popovic perché anche lui sta come si dice come in toscana mettendo in campo una squadra di scalzi e ignuti si dice così ma sta facendo giocare a basket riescono a giocare a pallacanestro infatti per tenere i lakers e i lakers fanno una palla canestro c'è una roba che non è pallacanestro gli spursi giocano a pallacanestro poi magari gli attori sono diversi ma i risultati comunque da una ragione ancora popovic se andiamo in relazione a quelli quindi figurarsi sì sì no ma infatti giocano bene cioè sono divertenti poi secondo me è quello che capiterà poi a un certo punto agli uta jazz nel senso sì giocano bene però a un certo punto che cazzo mi aspetto che la reale qualità o poi magari ci sbagliamo cioè questa è la reale qualità e gli uta jazz sono contender già quest'anno niente niente da dire certo è che sorprende sorprende è un po il cambio della guardia cioè è un po una stagione di di cambio della guardia completo perché abbiamo allenatori giovani che stanno scalzando quelli vecchi abbiamo giocatori vecchi tipo Steph tipo KD che sono ancora stanno giocando a livelli clamorosi però ci sono tanti giocatori di quella generazione i Westbrook gli Arden io ci metto dentro anche gli Anthony Davis che non è di quella generazione ma che fisicamente lo è da anni come se fosse come se fosse esatto i Lebron diciamo quella generazione lì che è molto in difficoltà molto in difficoltà contro le nuove leve parlo di nuovi nomi alla non lo so Ali Burton Banchero stesso e tra l'altro gli Indiana Pacers hanno pure loro un record positivo in questo momento sei vinte cinque perse e anche quella è una sorpresa Shay Gilgis Alexander questa sera i Thunder hanno strapazzato i Knicks al Garden al Garden quindi in questo momento c'è realmente follia a livello di risultati perché le squadre che ti aspettavi che facessero schifo di tutte le squadre che ti aspettavi che facessero schifo solamente gli Houston Rockets stanno facendo realmente schifo gli altri stanno facendo stanno andando ben oltre le aspettative e il collegamento partendo da Boston è ovviamente quello che i Brooklyn Nets perché ne abbiamo già abbiamo già accennato c'è stato il discorso legato all'arrivo di Gio Mazzulla al possibile arrivo di Imeu Doca scusate non di Gio Mazzulla in quel di Brooklyn con le dichiarazioni poi dei membri in particolar modo di Smart dello spogliatoio di Boston per cui insomma sarebbe stata quantomeno curiosa la situazione Imeu Doca lasciato libero a una diretta contender eccetera e alla fine gira che ti rigira è stato confermato Jacques Vaughn che era la scelta più probabile nel contesto Nets di questo momento perché hanno Kyrie Irving che ogni giorno ne esce una nuova ha parlato con Joe Tsai, Joe Tsai però ha detto no non è convinto lo sta facendo insomma casini, casini, Kyrie Irving uguale casini ma la questione Kyrie Irving per la prima volta dopo tanto tempo sembra realmente, finalmente essere stata estromessa dalle questioni campo da quando è arrivato Jacques Vaughn, 5 partite, 5 partite sotto i 100 punti subiti da parte di Brooklyn Nets quello che dicevi tu prima, cioè è una difesa che ha stretto le maglie non passa più nessuno, è la squadra che stoppa di più in NBA e non ha un centro di ruolo se vogliamo essere precisi, si passano tanto la palla perché hanno tutta la squadra che smazza assist, come a ridere sono rientrati Seth Curry e Joe Harris e quindi hanno anche i tiratori adesso Ben Simmons esce dalla panchina e fa un sacco di falli però quantomeno sta avendo un po' un effetto Westbrook a Los Angeles cioè uscire dalla panchina in qualche modo ti fa pesare meno quelle aspettative enormi che quel contratto che hai ti fanno pesare sulle spalle ecco Ben Simmons forse è l'unica nota così e cos'ha dell'attuale sistema Nets però oggettivamente da quando è arrivato Jacques Vaughn non prendono mai più di 100 punti mai e questo è solo mentale cioè non posso pensare che tac adesso abbiamo aggiustato tutto cioè sinceramente non ne potranno più di Steve Nash e hanno dimostrato che insomma sono una contender cioè io per come ho visto ho visto tre partite di queste cinque dei Brooklyn Nets e ragazzi ci hanno una garra direbbe qualcuno una garra c'è a rua allucinante quanto durerà è possibile sapere dove giocano stanotte dove giocano stanotte con i Lakers eh quindi abbiamo un'altra vittoria un'altra vittoria è meno di 100 punti sicuro fanno 82 i Lakers non c'è neanche Lebron James qual'è il problema no beh tra l'altro secondo me la genialata di Jacques Vaughn lui dice è impossibile non ottenere tre falli in tre minuti da Simmons allora se io lo metto al primo minuto di partita poi mi resta 45 minuti con problemi di falli in squadra a livello di rotazione allora io lo faccio entrare a tre minuti alla fine del primo quarto quindi almeno magari il primo quarto me lo vivo serenamente a livello di problematicità e incomincio ad avere problemi di rotazione dal secondo e questa è la ragione per cui lo fa partire dalla panchina giustamente perché comunque avere un titolare che ti fa tre falli in tre minuti nei primi tre minuti di partita ti va comunque a cambiare la struttura di equilibrio di ritmo, setto, flow, tutto qua capito? ti dice come posso fare io perché questo mi rompa il meno i coglioni possibili non faccio partire dalla panchina il più lontano possibile dal fischio d'inizio almeno il primo quarto me lo vivo sereno questo secondo me è il ragionamento di quel geniaccio di Jacques Vaughn non è stupido no comunque a parte queste cazzate qua il problema però è un altro è che in un modo o nell'altro c'entra sempre Kyrie Irving cioè Jacques Vaughn deve ringraziare Kyrie Irving perché se non ci fosse stato il problema Kyrie Irving i Nets e Udoca se lo prendevano se lo prendevano ma senza problemi il problema è stato solo esclusivamente che mi porto dentro un allenatore che al momento che io rifirmo mi porto addosso le peggio infamate per il fatto che questo comunque a prescindere da quel che si sappia o che non si sappia è rappresentazione di un modo di non rispettare le donne eccetera eccetera e quindi si può creare il femministe non so che no allora dice già c'ho la popolazione ebraica non so come definirla gli ebrei insomma che mi vogliono male per via di Kyrie Irving poi mi porto contro anche le femministe sono cazzi nel senso di prendo gli stompi di qua e di là allora dice una me la posso salvare bene teniamo Udoca fuori dai cognoni e prendiamoci Jacques Vaughn che è tutto sommato era già lì e che comunque aveva un vantaggio e lo sta dimostrando non so se hai visto il video della prima vittoria di Nets con Durant in iper amichevole anche lì insomma si può dire tante cose no cioè nel senso la prima vittoria da head coach riconfermato di Jacques Vaughn lo spogliatoio l'ha festeggiata in un modo assurdo e i festeggiamenti li ha date o in là come dire un Kevin Durant sorridente e Jacques Vaughn comunque era uno che in quanto assistant probabilmente aveva un grande polso dello spogliatoio aveva grandi rapporti con i giocatori evidentemente oggi è il classico definibile player coach per questa ragione qua perché comunque hai già un contatto precedente il fatto che Durant sia stato il promotore dei festeggiamenti è dovuta anzi è sottolineatura al fatto che siccome non ne poteva più di Nash già lo scorso anno non vedeva l'ora di vedere chiunque altro oltre a Nash è venuto anche Vona anche se c'ha sto barbone qua lo abbraccio lo stesso non me ne frega un cazzo e siamo a posto cioè secondo me è quello sintomatico no? però insomma ecco i Nets alla fine della fiera hanno da vedere rientrare questo TJ Warren vediamo come funziona per me non sono una squadra comunque che può puntare a qualcosa di più del primo tour nel playoff è fatto salvo che hai Kevin Durant cioè è vero che hanno trovato una solidità hanno trovato una stabilità ma sono di rotazioni fortissime oggettivamente cioè può andar bene per certe fasi della stagione questo roster qua ma non è certo il roster che ti saresti aspettato e non mi stupirei io se Kai Irving alla fine non venisse reintegrato perché io sono i punti dovrebbero essere tutti tutti come dire spuntati ha parlato con Saia ha parlato con Silver però ad esempio si attendeva un potenziale reintegro stanotte reintegro nella gara con Los Angeles non ci sarà resta fuori a tempo indeterminato non so come va a finire con Kai Irving c'è anche la la forte possibilità che che venga tagliato secondo me e a quel punto lì però i Nets non avrebbero la squadra sufficiente per poter puntare a qualcosa di più di un miracoloso primo turno secondo me a prescindere da quanto Durent sia contento e quanto lui performi e il resto comunque ha forti problemi nel senso se togli Durent e togli Seth Curry non hai grandi attaccanti è Joe Harris ok sì che comunque sta tirando malissimo guarda io ti dico li ho visti tre volte nell'ultima settimana settimana e mezzo e c'è un altro aspetto secondo me positivo cioè sono cambiati gli sguardi è cambiato l'atteggiamento cioè sembrano tutti voler lottare per il proprio compagno di squadra ed è una cosa che fino a prima dell'arrivo di Jacques Vaughn ma proprio no ma proprio no e c'è anche in questo caso c'è un attacco diverso nel senso che è chiaro che Kevin Durant è il tuo primo violino e non può essere altrimenti ma c'è un attacco molto distribuito cioè hanno Roy Sonil che si piglia i tiri hanno Seth Curry che si piglia i tiri Joe Harris che si piglia i tiri Claxton che è di una solidità a rimbalzo offensivo e difensivo e si fa trovare sempre pronto nei pick and roll dopodiché ovviamente c'ha Iben Simmons che ha un blocco mentale da diverso tempo e questo ormai è e questo rimarrà così temo purtroppo per il resto della sua carriera hai cari Irving fuori dopodiché Perry Mills che ogni tanto entra ma comunque fa pochino almeno per ora e poi avresti appunto TJ Warren e altra gente fuori io non li do per spacciati nel senso che una squadra con Kevin Durant io non posso considerarla ma non una contender però è chiaro che io guarda io ti dico secondo me non lo tagliano Kyrie Irving per il semplice motivo che sta ricevendo troppo supporto da altri giocatori e quindi nel momento in cui tu lo tagli qualcuno se lo rifirma cioè non è non è una situazione ma Lebron è il primo è stato il primo a dargli un supporto sì anche Jalen Brown che è stato ex compagno a Boston ma penso che ma Boston non lo riprenderebbe ma il Triglia Lebron James lì che sta pasturando il fondale cercando di prendersi chiunque e così se non vorrebbe Kyrie Irving nel disastro Los Angelino quindi nel senso il supporto poi viene di conseguenza comunque sarebbe stupido tagliar Kyrie Irving però il problema è che potrebbe essere davvero l'ago nella bilancia in negativo nel senso riporti dentro e risalta tutto perché magari domani l'altro spara una puttanata anziché contro gli ebrei la sputano lo so contro gli africani non ho la più palla idea nel senso però è completamente fuori controllo secondo me non ha la coscienza di sé e quindi è un casino sì l'altra opzione sarebbe quella che una squadra come gli Utah Jazz o come i San Antonio Spurs a un certo punto ti dicano non lo so ti diamo accetti che cazzo ne so Doug McDermott e boh e qualcun altro oppure i Jazz ti danno boh Malik Bisley che cazzo ne so e a quel punto tu sei costretto ad accettare perché sai per certo che a fine stagione comunque lo perderesti gratis i Lakers potrebbero offrire un Russell Westbrook che riformerebbe una coppia che insomma ha fatto tanto bene con l'Homa City quindi nel senso mamma mia mamma mia e comunque comunque tra l'altro c'è una roba che volevo dire rispetto a Udoka e rispetto principalmente al discorso del cambio di sguardi che hai visto te perché ragazzi è storia dell'NBA anche quando Paul Wested l'allenatore che avete visto probabilmente nella serie sui Lakers dello Showtime vincere il titolo perché Jack McKinnon era caduto di bicicletta era un assistant coach insieme a Patrali quando Paul Wested iniziò a funzionare male emerse Magic Johnson come l'uomo che lo fece fuori tant'è che il forum lo fischiò anche a Magic Johnson pensate un po' che aveva comunque già avvinto un titolo era l'82 il fatto però che Magic Johnson lo leggevo nel libro Showtime di Jeff Perlman che lo racconta era comunque il portavoce di uno spogliatoio che di Wested non ne poteva più quindi non è escludibile che le posizioni prese da Durant contro Nash in modo così palese fossero comunque la risultante di un insomma il pensiero comune dei suoi compagni di tutto lo spogliatoio rispetto al fatto che di Nash ne avevano pieni coglioni per parlare in maniera insomma sottile e quindi è normale che al cambio di manico ci sia un diverso approccio non a caso infatti si sta parlando di Udoca che potrebbe essere o interessare a Filadelfia perché te dicevi prima appunto quando parlavi dei vecchi marpioni allenatori che non funzionano diciamo sempre insomma Doc Rivers non è certo l'allenatore ideale per far funzionare questa Filadelfia che è altra grande squadra delusione di questo avvio chissà che Udoca adesso non possa non possa magari ambire o sperare in quella panchina sicuramente c'è un dato Boston se i Nez avessero voluto Udoca lo avrebbe lasciato andare perché evidentemente Boston si può togliere questa patata bollente di dosso ed è contenta giustamente di Mazzulla e quindi probabilmente è comunque interessata a investir su di lui quindi i Celtics se lascerebbero partire serenamente Udoca io se fossi in Filadelfia ci farei un pensierino è vero che vai a rinforzare una diretta contender e lo stesso a critica che veniva fatta ai Celtics stessi se Udoca fosse andato ai Nez però dal punto di vista di Filadelfia servirebbe sì costruire una mentalità difensiva e Udoca evidentemente lo sa fare non è certo Glenn Grant Rivers come noi lo chiamiamo per scherzo l'uomo giusto però poi magari si riprendono pure loro per me adesso con Embiid è ritornato comunque a calcare i campi in maniera dignitosa è già qualcosa sì 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 però continuano a far fatica nella city of brotherly love Filadelfia no tra l'altro sorridevo perché avendo trattato un po' tutte le varie stagioni NBA no dal praticamente anni 90 2000 eccetera il primo video che feci il primo video sulla stagione fu il 99 2000 quando Doc Rivers era giovane e vinse il coach of the year a Orlando con una squadra di scappati di casa per cui mi fa sorridere come in realtà adesso sia uno di quei classici coach diciamo alla Max Allegri tornando prendendo un po' il tema calcistico cioè quelli che non si rinnovano cioè che passano 20 25 30 anni seduti sulle panchine NBA a far sempre le stesse cose per 30 anni finché non diventi obsoleto ma hai talmente tanta credibilità che una panchina la trovi lo stesso quello che Popovic non è stato sapendosi invece rinnovare a seconda di chi chi andava a allenare quello che altri coach come Rick Adelman mi viene in mente Don Nelson e tanti altri non sono in grado di non sono stati in grado di evolversi D'Antoni lo è stato cioè D'Antoni caso a parte però insomma c'è anche questo tema che secondo me è molto molto bello l'altro è quello che dicevi tu prima cioè che attualmente tantissime tantissime franchigia NBA probabilmente il coaching staff ha un ruolo molto più importante dell'head coach e lo abbiamo visto ai Lakers con Jason Kidd col titolo della bolla Jason Kidd è andato via ai Lakers sono spariti dal punto di vista proprio totale probabilmente lo abbiamo visto con con Bob magari anche con Mazzulla e Udoka cioè magari Udoka senza Mazzulla sarebbe stato tutta un'altra roba chi cazzo lo sa cioè è tutto è tutto così e lo vediamo adesso con tanti ex assistant coach come Jacques Vaughn come Taylor Jenkins come tanti altri lo stesso Tyron Lu se vogliamo tornare un po' indietro nel tempo che sono attualmente head coach all'epoca erano assistant coach di squadre che funzionavano e quindi insomma il ruolo dell'assistant coach è molto 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 più importante di quello che noi tutti magari da qui dall'Italia possiamo pensare e i casi ormai si si sprecano nel senso ce n'è uno dietro l'altro ti faccio una domanda su questo e poi ti rimando subito io non lo sapevo nella partita tra Lakers e Cavaliers ho visto chi è assistant coach di Cleveland Luke Walton Luke Walton incredibile e Cleveland sta andando oddio le ultime due tre partite non benissimo però insomma è partita la sta grandissima non vorrei che si riabilitasse anche Luke Walton che comunque l'assistant coach l'aveva già fatto e neanche male ma tra l'altro ho avuto modo di parlare non ricordo con chi forse con Fede comunque recentemente tornando al tema Luke Walton perché abbiamo visto una partita dei Cavs in prima serata mi pare e l'avevamo visto anche noi Luke Walton lì tra l'altro c'è anche Tiago Splitter forse non mi ricordo se è a Cleveland o altrove comunque era in prima serata la gara dei Lakers era domenica scorsa esatto esatto Lakers Cavs e abbiamo visto Luke Walton al che magari da insider Luke Walton è uno di quelli che da assistant coach ti può dare un valore aggiunto che da head coach non è in grado di dare lo abbiamo visto chiaramente sia i Lakers che i Kings cioè ci sono persone che magari hanno più la propensione a restare dietro le quinte e lavorare magari sul campo magari Luke Walton è uno di questi che io personalmente quando giocava l'ho sempre ritenuto un giocatore stra-intelligente cioè un po' non so l'Alex Caruso dei giorni nostri cioè un giocatore che magari difensivamente non era Caruso ma offensivamente ti dava un playmaking aggiunto delle letture molto buone un Austin Reeves per restare sui Lakers adesso un po' meglio credo di Austin Reeves Austin Reeves cioè adesso sembra questo giocatore perché è in una squadra che non funziona per niente cioè Luke Walton era un buon giocatore in una squadra che ha vinto i titoli ai Lakers quindi insomma c'è una differenza secondo me e comunque secondo me io rimango del parere che un giocatore che in campo è palesemente intelligente o comunque si vede che è intelligente in campo secondo me non può fallire da un punto di vista di insegnamento di basket che non vuol dire essere head coach ma magari essere assistant coach oppure consulente come fu Nash per Stephen Curry i primi anni in cui Steph esplose io sono di questa opinione poi Nash non può fare head coach perché magari non ha il carisma per tenere sotto controllo il gruppo non ha magari capacità di relazionarsi con i media perché anche quello entra in gioco questi sono temi che potremmo affrontare nelle puntate successive ma sono completamente d'accordo sono interessanti e ti dico ci vuole il carisma per fare head coach perché non è più come negli anni 80 che avevi un assistente allenatore e l'allenatore e basta adesso hai uno staff infinito qui ti serve quel carisma necessario per poter fare in modo che questo staff deduco io non ne so niente non sono dell'ambiente però per fare in modo che questo staff lavori e ognuno avrà dei compiti perfetti nel caso di Luke Walton secondo me funziona esattamente così non hai il carisma per poter essere lui il coordinatore di uno staff ed essere quello che prende le decisioni finale perché le prende inevitabilmente sbagliate però nel senso se gli dai il compitino è in grado di farlo evidentemente è una faccenda anche che riguarda Steve Nash tra l'altro non lo so perché alla fine della fiera Steve Nash non ha fatto neanche l'assistente è stato sì sì esatto a fare l'allenatore capo e forse questa è la classica condizione che ti brucia sperando di poter avere uno Steve Kerbis perché credo che poi il senso fosse quello però insomma ecco è un tema interessante vanno va valutata sempre di più e comunque già la si valuta tanto l'importanza dello staff più è ampio e più è cosciente nel senso scolto hanno i Golden State Warriors hanno vinto con Atkinson sì e Mike Brown e Mike Brown cioè capito alla fine dei conti poi te li ritrovi anche i nomi grossi e vedi che servono quindi è fondamentale nell'NBA di oggi è fondamentale tra l'altro così chiudiamo abbiamo passato l'ora ti dico solo questo nel parlare del più e del meno un altro allenatore che attualmente è in difficoltà almeno si vede un po' in difficoltà pare essere Eric Spostra che è il non giovane cioè è sempre è sempre giovane non invecchia però Miami Heat un po' in difficoltà in questi inizi stagioni non ho dubbi che poi alla lunga magari verranno fuori perché hanno la mentalità la culture tutto quello che volete però sono in difficoltà sono in difficoltà ed è un altro allenatore che ormai insomma possiamo considerarlo veterano Spostra non è vecchissimo ma è sicuramente uno dei veterani il problema è che non gli hanno rinnovato secondo me il gruppo per come aveva bisogno che glielo rinnovassero nel senso gli Heat sono fermi in quel modo lì Gigi Butler può essere convinto di poter riuscire ad arrivare al titolo con questa squadra figurarsi però il punto è che è una squadra che è conosciuta e che al suo interno ha giocatori a fine corsa l'auri è uno di loro secondo me quindi nel senso per me era abbastanza inevitabile che gli Heat facessero una stagione abbastanza in chiaro scuro al di sotto di presunte aspettative che dal mio punto di vista non c'erano però ho detto bene te è una squadra che ha mille mille cambi di pelle con giocatori veramente illegibili in positivo Butler è chiaramente il capo di questi perché è uno che con la grinta e con le sue capacità riesce ad andare oltre se stesso ogni volta mai darli per spacciati e non vorrei mai vedere i Miami che ne so arrivare a playoff da settimi o da ottavi e magari buttare fuori una delle presunte grandi perché perché le corde le avrebbero poi al momento in cui il gioco si fa duro per essere duri fatto sta che per il momento sono una squadra molto 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 deludente non vedo neanche come il povero Spolstra possa scozzare ulteriormente le carte perché quelli ha e bene o male sono gli stessi lo scorso anno cioè non è cambiato niente e con i Miami Heat di Coach Spoh il vero Dorian Gray che non invecchia mai che roba abbiamo terminato anche la puntata numero 13 del podcast siamo andati oltre l'ora di qualche minuto perfetto perché perché almeno in questa maniera non copiamo quelli che dicono un'ora tre temi abbiamo fatto secondo me più di tre temi e più di un'ora quindi insomma creiamo un nuovo trend così magari poi gli altri tornano a far più puntate lunghe noi torniamo su un'ora tre temi vabbè andiamo avanti così Tore ricordiamo a tutti questo podcast lo trovate su YouTube con le nostre facce 3&drink su tutte le piattaforme podcast da Spotify a Google Podcast Apple Podcast Apple Podcast e Apple Podcast dove dobbiamo assolutamente alzare il nostro il nostro tiro e lì che conta ragazzi lì dove si gioca la partita si gioca la vera partita e poi per il resto siamo anche su TikTok non so se usciranno dei 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 corti da questa puntata però insomma l'idea è quella di comunque puntarci non so quando no però possiamo possiamo dirlo non sappiamo quando però prossimamente sia su TikTok che anche sul canale YouTube perché ci sono gli shorts che poi sono sempre le stesse cose cioè vengono pubblicati di qua e di là ci saranno contenuti inediti perché altrimenti voi pensate di andare nei canali TikTok YouTube e vedere comunque le anteprime o parti o momenti della registrazione della trasmissione faremo anche degli inediti per dare ancora più valore a queste a queste realtà e quindi iscrivetevi al nostro canale TikTok al nostro canale YouTube oltre che ascoltarci su Apple Podcast appunto dove ci giochiamo tutto ci giochiamo anzi stanno siamo andati all in ragazzi siamo andati all in all in Tore grazie mille per la serata non abbiamo detto quando stiamo registrando è domenica 13 novembre sono ora le 23 quindi abbiamo iniziato alle 22 più o meno a registrare così sapete insomma che se abbiamo detto qualcosa e poi nella notte tra domenica e le 7 del mattino di lunedì succede non lo so Kyrie Irving rientra in a roster gioca stanotte Minnesota vince di 40 probabilmente perché John Cleveland tra l'altro mi pare adesso esatto sapete insomma ha dato un contesto a questa puntata Tore grazie mille anche questa l'abbiamo sbangata adesso spero che la piccola si cagli addosso stanotte speriamo nella settimana prossima che magari lunedì prossimo tutto sia a posto è impossibile ma noi ci speriamo andrà meglio andrà meglio dai per forza che non ci crede nessuno però insomma domani è un altro giorno domani è il nostro è il giorno migliore della nostra vita bisogna partire sempre con questa prospettiva e volevi esatto volevi chiudere tu con buon lunedì di merda a tutti prego buon lunedì di merda a tutti ragazzi ciao ciao ciao